partono dalla darsena arrivano il mare aperto e a fine attività fanno ritorno i motopescherecci partono ogni mattina per la pesca a strascico a largo della costa tra ancona e rimini poi rientrano nella notte per sbarcare il pescato da vendere al mercato ittico all'ingrosso durante il tempo di pesca le reti vengono trainate sul fondo la loro apertura è ottenuta con i due grossi divergenti in ferro visibili sul lato della poppa grazie a tutti grazie a tutti il sabato e la domenica sono giorni di riposo per i pescatori le imbarcazioni vengono ormeggiate nella darsena in attesa del lunedì successivo nei primi anni 2000 i motopescherecci corretti a strascico attraccati al molo di fano erano oltre 65 e operavano a largo delle coste croate oggi la regolamentazione è più rigida e attenta ai risvolti ambientali di questo tipo di pesca i motopescherecci sono diminuiti e pescono in zone diverse dove trovano una maggiore varietà di specie in funzione della distanza dalla costa del fondale e del periodo di attività grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti